La nuova entrata di questa settimana è una catena di Daniele Cordani. 9. Al nono posto c'è l'orchestra Bagutti con Dalla fine del mondo. 8. Terza settimana di permanenza in classifica con un successo del suo repertorio troviamo in ottava posizione Tony Atodisco con Se ogni tanto. 7. Roberta Cappelletti con Canzoni di una volta. 6. Afrodite di Rossella Ferrari e Casanova. 5. Enrico Iglesias bailando. 4. Il successo di Omar Codazzi e Elena Cammarone con Scelgo Te. 7. Al terzo posto c'è... 8. Il volo con Grande Amore. 9. Al secondo posto c'è... 9. Marianna Lanteri con Penna Nera. 10. Primo posto per... 10. Castellina Pasi con Grande. 10. Andiamo a scoprire l'artista della settimana di Liscio.1 presentato da Media TV. L'artista dei social network di questa settimana è l'orchestra Franco e Enrico Dolce Vita. Vuoi rivedere la classifica? Vai su www.liscio.1 o segui le tv e le radio facenti parte del network Liscio.1. Ci diamo appuntamento alla prossima puntata per scoprire il ballo di gruppo del mese di Liscio.1. Rimanete con noi, vi aspettiamo. Ciao! Liscio.1 Rimanete con noi, vi aspettiamo.